Ehi figli, compriamo l'Inter. Belli viziati. 14.000 euro di estetista. È velozissimo. E adesso... Abbiamo fatto banca rotta frago lenta. Belli poveri. Bisogna fare una cosa che voi non avete mai fatto. Cioè? Lavorare. Non so se son buono. Si dice capace. Hola, la, la. Guarda che iniziamo malissimo. Voglio tornare a casa. Diego Batantuono, Belli di papà. Prima TV, venerdì 21.10, Canale 5.